Il primo Enofos che abbiamo acquistato l'abbiamo iniziato a utilizzare nel 2013, è stato un passaggio molto importante per il tecnico che abbiamo nel laboratorio in quanto abbiamo dato la possibilità di snellire molto il processo di analisi. Siamo stati fortemente propensi a provare il nuovo Enofos perché comunque sia è un'implementazione importante della qualità di analisi e soprattutto abbiamo visto potenzialmente una velocizzazione della preparazione del campione. Con la nuova macchina avendo la cuvetta con già il filtro diventa tutto molto più semplice e più rapido dal momento che arriva il campione in laboratorio nell'arco di pochi minuti abbiamo veramente il risultato. In più un'altra cosa molto interessante che abbiamo visto anche su campioni sporchi o ricchi in CO2 non andiamo ad alterare la ripetibilità del risultato anche in confronto con l'attuale attrezzatura e strumentazione di laboratorio. Per quello che è il nostro pensiero, la nostra filosofia, volendo essere meno interventisti possibile l'unica maniera è avere un migliore controllo di processo. Con questo nuovo strumento possiamo aumentare la quantità di analisi, potremmo anche secondo me ridurre i costi di laboratorio. Dopo una prova comunque così sommaria di poco più di due settimane è uno strumento che consiglierei proprio per la facilità di integrarlo nel processo produttivo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.